Si intitola mille ed è già un autentico tormentone estivo 2021. E' un singolo uscito proprio oggi, 11 giugno 2021, è destinato ad avere un successo clamoroso e ad essere promosso in qualità di brano dell'estate 2020. Abbiamo Irietta Berti, Achille, Laura e Felix all'interno di questo singolo musicale. Il video ha avuto più di 250.000 visualizzazioni in pochissime ore di tempo. Tre geni della musica, tre menti eccelse per quanto riguarda la musica italiana e non solo, immagini di una nuova hit musicale che non può passare inosservata. Il quadro che si vede come copertina dell'album e o della hit in questione, vede infatti i cantanti con le sembianze di tre grazie, grazie Graziella e grazie Arca, Pontini e Pontini, mi verrebbe voglia di dire, ma non lo dico per simpatia e affetto nei confronti di tutti e tre. Acconciati con fiori di bucolica bellezza, con fiori di bellezza completa, totale. Bene, dunque mille si intitola questo brano musicale dove abbiamo Irietta Berti, affiancato dal buon Achille, Laura, affiancato ancora al buon Felix al secolo Federico Lucia. Complimenti dunque a tutti, il singolo mille spopolerà da come si prevede qua sul web e da come i ben informati ci vengono a dire, ad informare. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, una buona sera a voi, da Riantro, il narratore italiano di Youtube Italia. Grazie. Grazie.